Che novità? Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza? È vero, ma io, io stavo qui mettendo. Via mettendo? Certe robe. Era neco la Susanna che in sua camera è andata. Ma in ogni modo voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio. Che nome? È il foglio che Figaro gli scrisse. Cos'è con questo strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta. Io non intesi di essere. Convienti abbiate i gran pensieri in mente. Di che? Lave qualcuno. Chi volete che sia? Lo chiedo a voi. Lo io vengo in questo punto. Ah sì, Susanna, appunto. E passò, mi diceste, alla sua stanza. La sua stanza? O qui? Non vieni bene. Susanna! E' dove viene che siete sì turbata? Per la mia cabellera. Io non so nulla, ma turbata senz'altro. Ah, questa serva! Più che non turba me, turba voi stesso! È vero, è vero, e lo vedrete adesso! Oh! Grazie a tutti.